Buongiorno! Ciao Andrea, buongiorno! Lo splendore della vita bonjour! Troppo buono! Ciao! Tutto bene? Va bene, bene Andrea, tutto a posto. Allora vediamo subito, ti metto già la prova se tutto bene. Ok. Allora, siamo a Como, in una casa molto bella, con dei clienti molto esigenti. Sta piacendo tantissimo la collezione che abbiamo fatto insieme, infatti anche il cliente è assolutamente contento. Lo facciamo con la finitura oro francese. Ed è lì che ho bisogno del tuo aiuto, perché quando scegliamo una finitura, poi ho bisogno di tutti gli accessori, le cerniere, i dettagli, ma soprattutto mi ha chiesto il termostatico. Ok, allora Andrea, effettivamente è una richiesta che spesso... Facciamo una bella doc. Ok, fammi vedere. Quindi dovrà essere con 2 barra 3 uscite, perché il soffione lo richiede. Allora, benissimo, potrai metterti la placca termostatica e poi eventualmente andare a lavorare su dei rubinettini a prechiudi, con il tuo design. Per cui potremo progettare... Quindi li fai apposta. Esatto. Poi li metterai anche in produzione. E poi l'estetica appunto sarebbe questa. Però mi piace, bellissimo. Vedresti proprio solo il richiamo della... Così abbiamo completato tutta la collezione. Direi di sì, potrebbe essere una buona soluzione. Non mi odiare per questo. Assolutamente no e tra l'altro credo che la metteremo in produzione, perché può essere un buon completamento. Effettivamente i clienti ormai chiedono, come dicevi te, oltre che il total look, sempre di più avere anche la funzionalità all'interno. Assolutamente. Ha maggior ragione all'interno dell'ambiente doccia. Io sono un grandissimo fan del termostatico e non posso più farne a meno. Una volta che imposti la temperatura, tu vai a gestire le uscite acqua in maniera singola e autonoma. Assolutamente. Dai. Quindi a fare fatto? Allora ti ringrazio. Grazie a te.